Un'occasione straordinaria per visitare la storica Chiesa degli Spagnoli che si trova in Piazza Municipio a Napoli, a pochi metri dall'ingresso di Palazzo San Giacomo, riaperta pochi mesi fa dopo sette anni di chiusura e un attento restauro. Ad offrirla il progetto di ricerca di interesse nazionale Checkout, che vede i protagonisti di diverse università italiane, tra cui la Federico II. Nell'ambito del progetto si è svolto un seminario preceduto da una visita guidata dal titolo Patrimonio Culturale e Benessere Comunità Educanti per un Nuovo Welfare Urbano. Presenti la docente Francesca Marone, coordinatrice del corso di studi in coordinamento dei servizi educativi per la prima infanzia e per il disagio sociale, del Dipartimento di Studi Umanistici della Federico II e l'assessore alla famiglia del Comune di Napoli, Maura Striano. L'incontro di oggi nasce dall'accordo quadro che è stato promosso dall'Università degli Studi di Napoli Federico II e l'arci confraternita del Santissimo Sacramento dei Nobili Spagnoli, che ha permesso l'apertura della Basilica di San Giacomo degli Spagnoli. L'accordo nasce dalle attività dell'Osservatorio sulla Governance per l'Educazione al Patrimonio Culturale, Artistico e Paesaggistico, OGEP 3 Unina, appunto attivo presso il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università Federico II. Welfare Urbano significa, prima di tutto, che noi dobbiamo creare e generare benessere, generare benessere e far sì che tutte le persone possano accedere a quelli che sono i beni culturali, utilizzando tutti i linguaggi possibili che possiamo mettere a disposizione, ma anche rendendo fruibili delle strutture e dei beni che normalmente non lo sono e soprattutto anche far sì che questi beni poi entrino in un circuito di produzione anche di benessere economico, quindi abbiano anche una funzione di traino dal punto di vista culturale, turistico, e quindi penso che entrambe le cose debbano funzionare insieme.